Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Ha spazio per provare... ecco il tiro! Che gollo! L'allenatore dovrà buttare via gli appunti presi finora e ringraziarlo per questo gol a fine primo tempo. Ora dovranno essere bravi a sfruttare l'entusiasmo e a mantenere il vantaggio. Errore madornale! Gli avversari ringraziano. Hanno mostrato grande capabilità sull'indecisione della difesa e a questi livelli si paga sempre a caro prezzo.